Stiamo facendo una prova di carico del solaio della biblioteca con dei materassini d'acqua per simulare una situazione di carico e verificare la portata del solaio perché in questa sala dobbiamo montare delle attrezzature particolarmente pesanti rispetto al resto degli ambienti sostanzialmente. I materassini verranno riempiti d'acqua quindi il peso aumenterà naturalmente e poi come verrà rilevato? Allora, al piano di sotto ci sono dei comparatori di misure elettronici che misurano le deformazioni che la volta fa man mano che si riempie e aumenta il carico sull'intradosso del solaio in questa zona. Giù c'è tutta una parecchiatura elettronica montata, fatta apposta che misura le varie deformazioni della volta in cinque punti. Grazie a tutti.